Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti in un nuovo video, noi siamo Marisa e Aurella Kids e oggi, indovinate cos'è? La festa del papà! E oggi noi abbiamo un'inizione di fare la torta, non l'abbiamo fatta ma dovevamo decorarla e lo dichiareremo insieme a voi, guardate la torta! Qua avevamo messo queste banane, qua la torta, avevamo messo il cioccolato e dopo lo andremo a decorare con questi, questi qua bianchi e qua questi! Scriveteci giù nei commenti se volete essere salutati in uno dei nostri video e scriveteci qualcosa, qualche video da fare e noi lo andremo a fare, noi lo andremo a decorare mettendolo qua sopra, inizieremo a mettere questo qua, questo qua rosso, facciamo così, tu metti questo e dopo io metterò il ciocchettino e dopo noi due mettiamo così, ok mettiamolo qua, vai! Adesso metto il fiocco, adesso andiamo a mettere questi qua, che sarebbero i cioccolatini, sulle cioccolatini, che possiamo fare come i bottoni, come i bottoni e dopo andremo a scrivere con questi buona festa del papà. Ok, comincio a scrivere. Ragazzi abbiamo pensato di scrivere su un foglio buona festa del papà, adesso lo vado a scrivere. E ci ho fatto delle decorazioni, guardate, e lo vado ad aggiungere qua. Qua cos'è? Così. Ecco qua. Dopo quando lo daremo e il nostro papà sarà felicissimo. Ecco qua. Così. Ok, lo mettiamo qua. Eccolo qua. Finalmente, adesso non lo avrò perché dopo cali di nuovo. Mi piace tantissimo come è venuto, guardate, che bello. Io voglio mangiare già adesso perché è molto buono. E Aurella è una golosone. Ti ricordi l'altra volta che avevamo fatto la torta? E gli avevo detto, ehm, ti ricordi che avevamo fatto l'altra torta quel giorno? Sì, vabbè. Che l'avevamo fatto meglio, anche questo per il papà, ovviamente. Meglio metterlo qua. È vero, dai. Quando vedrà il nostro padre che verrà dal lavoro a casa, sarà felicissimo che gli avevamo fatto questa sorpresa. E noi avevamo fatto anche dei disegni. Dei regali che non vi diciamo. Perché è un segreto per il papà. Che vi mostreremo quando viene da casa. A casa. Quindi questo è il testicolo. Messo questo, questo, queste, tutte le cose. Quindi questo video finisce qua. Ma prima mettete il like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ciao. Buona festa del papà a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.